In Brasile, spirali per l'estradizione di Cesare Battisti, l'ex terrorista condannato per due omicidi in Italia. Il braccio destro del neopresidente dice che si troverà un accordo con l'Italia. Il ministro degli esteri, Moavero Milanesi, afferma che è doveroso nei confronti delle vittime. Inviati Marco Clementi e poi Stefano Berardini. Abbiamo già troppi omicidi in Brasile per essere ancora qui a dare da mangiare a un assassino che ha ucciso un sacco di persone in Italia. Parole del braccio destro di Bolsonaro, Onix Lorenzoni, coordinatore della campagna elettorale del nuovo presidente e suo futuro super ministro, probabilmente all'interno. È un assassino da estradare, dice in un'intervista alla radio. Non ho dubbi che rispettando le formalità legali Battisti troverà un accordo con le autorità italiane. È cambiato il vento in Brasile. Vengono meno le certezze del terrorista, condannato a due ergastoli per omicidio plurimo, al quale l'ex presidente Lula aveva concesso lo status di rifugiato e sempre negato l'estradizione. Battisti vive a Cananeia, a quattro ore d'auto da San Paolo, dove si sta costruendo una nuova casa. Ad aprile gli sono state revocate le misure restrittive e non ha più l'obbligo di dimora, ma con l'elezione di Bolsonaro e la svolta destra del Brasile, il terrorista dorme sonni meno tranquilli. Il presidente eletto si insedierà il 1 gennaio. Come ministro della giustizia vuole l'uomo che condannò l'ex presidente Lula, Sergio Moro, il giudice dell'inchiesto al lavaggiato, la manipulite brasiliana, la più vasta operazione giudiziaria di sempre, contro corruzione e riciclaggio. La missione dei militari italiani è a difesa della diga di Mosul in Iraq, minacciata dall'avanzare dell'ISIS.